GF VIP, Giulia e Pierpaolo smascherati da non serve il supporto, hanno fatto pace. Come procede tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo l'annuncio a grande fratello VIP7 di essere in crisi? La coppia è nata all'interno della casa più spiata d'Italia. Dopo aver vissuto un periodo di grande felicità e sintonia, ha fatto sapere di essere alle prese con un momento delicato della loro storia d'amore. Sebbene i suoi social continuino a non mostrarsi insieme, secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosi che ha la crisi tra i due sarebbe già superata. Giulia Salemi ha spiazzato i suoi fan con un annuncio arrivato nel corso dell'ultima puntata serale del GF VIP. L'opinionista web delle reality show ha confessato ad Alfonso Signorini di essere alle prese con un periodo di crisi legato alla sua storia d'amore con Pierpaolo. L'ex Jeffina, però, ha preferito non sbilanciarsi e non dare ulteriori dettagli su quanto starebbe accadendo col suo fidanzato. Pur lasciando senza parole il padrone di casa delle reality show Mediaset. Successivamente anche Pierpaolo Pretelli ha confermato il momento di crisi in corso con la sua fidanzata Giulia. A distanza di quasi due anni dalla loro uscita di scena dal cast delle reality show. In queste ore, mentre i due diretti interessati sono chiusi in religioso silenzio, Alfonso Signorini ha postato sui social un video in cui si mostra insieme alla coppia. A quanto pare il padrone di casa del GF VIP starebbe cercando in tutti i modi di fare da pacere tra i prelemi e far sì che tra i due possa tornare di nuovo il sereno dopo il momento di crisi che ha sconvolto i fan. Come stanno realmente le cose? La crisi in corso tra i due fidanzati va avanti oppure no? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Alessandro Rosica. L'esperto di gossip, sul suo profilo ufficiale Instagram, continua a sostenere a chiare lettere che non ci sarebbe nessun tipo di crisi tra Giulia e Pierpaolo. Bravo Alfo supportarli, anche se non serve più. Hanno fatto pace e lo spoilerato da due giorni, ha scritto Rosica sui social confermando di essere sicuro al 100% di questo ritorno di fiamma tra i prelemi. Cosa succederà a questo punto? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli faranno chiarezza nel corso della prossima puntata serale delle reality show in programma giovedì 16 febbraio su Canale 5. I fan della coppia sperano vivamente nel lieto annuncio. Io so con cui qui dueuffi rispetto alla storia trovano deiiği Wir vitali rispetto all COS. Io so con lui! Droprio, già troppo Anna! Başta energizonti il Florevo per costturnarsi e Gakk. Scemo decrete i Care Vicente di un Buonione determinato a teore, Grazie a tutti.